Il grande presidente, Abraham Lincoln, 1809-1865, il grande presidente degli Stati Uniti, è stato uno spiritista. Sembra che la decisione di abolire la schiavitù negli Stati Uniti gli sia stata suggerita da entità. Quando Lincoln fu eletto presidente, il medium Conklin riconobbe in lui un partecipante alle sue sedute di New York, dove Lincoln poneva domande mentali e se ne andava senza dire una parola. Il fatto fu pubblicato sul Plain Dela di Cleveland e il presidente non lo smentì. Perché? Commento. Perché Lincoln non pensava ma sentiva che la medianità, anche quella degli inizi, era un fenomeno a cui si poteva rivolgere evolutivamente.